Oggi abbiamo eseguito il monitor dedicato Audi Q5, questo è il monitor originale dell'Audi e abbiamo installato il nostro prodotto dedicato 10.25 pollici. Ovviamente andiamo a recuperare tutte le funzioni della macchina e in più abbiamo installato la retrocamera. Possiamo ammirare il prodotto. Ovviamente tutti i nostri prodotti sono disponibili verso il nostro shop. Qui stiamo usando il joystick originale, abbiamo gestione audio e video tramite le USB, tutto il mondo delle app. Abbiamo la dashboard digitale dove il cliente potrà personalizzarla, abbiamo check sportelli e in più in movimento abbiamo il contachilometri. Potrà personalizzare anche i colori e in più oltre a usarlo con il joystick originale potrà usarlo anche in touch come sto facendo io. Parliamo di un top di gamma, Android 13, 8 GB di RAM, 256 GB di ROM. Abbiamo anche il DSP, processore sonoro. Nel momento in cui vogliamo andare a vedere tutte le funzioni originali si va in informazioni e poi qui abbiamo con questo modo di toccare il touch e ritorniamo in Android. Ma adesso approfondiamo il discorso di tutte le funzioni originali. Andiamo direttamente in radio, sempre con il joystick. Abbiamo FM, abbassiamo il volume perché andiamo a recuperare anche i comandi al volante. E poi abbiamo tutto il setup veicolo. A secondo degli optional che la macchina possiamo andare a gestire tutto il setup veicolo. Vi faccio vedere la retrocamera che abbiamo eseguito. Io vi ringrazio, vi ricordo che tutti i nostri prodotti sono disponibili per essere nel nostro shop e diamo anche assistenza per tutti coloro che accettano la spedizione dei nostri prodotti. Grazie.